L'agricoltura naturale Sull'economia della famiglia funziona, poi le spese sono tante e poi c'è la burocrazia che ci sta schiacciando in tutti i modi. Per esistere faccio tanta fatica, però io credo in quello che sto facendo. Secondo me il prodotto buono, il prodotto genuino passa attraverso la modesta, attraverso me stesso credo veramente in questa cosa. La terra ha bisogno dell'uomo. Se l'uomo non c'è più, la terra... rimane lì e aspetta l'uomo. ... ...